Musica Insomma questa Bibbia è da riscrivere No, non è da riscrivere, è da leggere nel modo giusto perché riscriverla non avrebbe senso salvo riscrivere nel senso di togliere almeno le traduzioni palesemente false però quantomeno bisognerebbe cominciare intanto a leggerla e poi a leggerla per quello che c'è effettivamente scritto tutto lì già sarebbe sufficiente Se si legge a fondo la Bibbia si stravolge il senso anche del cristianesimo, del cattolicesimo? Sì, in realtà è il cristianesimo che ha stravolto il senso della Bibbia perché la Bibbia ha un senso specifico è il racconto della storia, del rapporto tra il popolo di Israele e il suo governante che è conosciuto col nome di Yahweh poi il cristianesimo si è impossessato di quel testo l'ha trasformato in ciò che non era ne ha fatto ciò che ha voluto ci ha creato addirittura sopra la figura di Dio e quindi in realtà è stato il cristianesimo che ha stravolto l'Antico Testamento Ma Gesù era un rivoluzionario a tutti gli effetti? Direi, tenendo come ipotesi che sia esistito direi che sicuramente se è esistito era un rivoluzionario antiromano nel senso che doveva svolgere la sua missione di Messia ma Messia inteso in senso ebraico e non in senso cristiano Ma lo Spirito Santo poi, in fin dei conti, non era lo Spirito Santo che noi conosciamo come cristiani, ma è ben altro? Lo Spirito Santo risulta essere una invenzione teologica della teologia cristiana che non ha nessun riferimento nei testi e secondo gli studi del gesuita Jean Danielou non è altro che la trasposizione cristiana della figura di Gabriele che era un individuo in carne ed ossa Lei ha fatto una provocazione molto forte Lei dice che la Bibbia bisognerebbe buttarla nella carta da macero No, ho detto questo tenendo presente ciò che dicono molti che quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra e che molto spesso la Bibbia quindi non va creduta per ciò che dice letteralmente Allora se un libro non va creduto per ciò che dice letteralmente secondo me bisogna buttarlo perché il significato di una lingua e il significato di una scrittura intanto risiede in ciò che c'è scritto il resto semmai forse c'è ciò che c'è scritto è sicuramente reale perché quello c'è e lo possiamo verificare E poi una cosa che un po' curiosisce tutti il pubblico in particolare leggendo la Genesi viene fuori che noi proveniamo non dalla sabbia non dalla polvere ma veniamo da un altro mondo lontano Sì, o quantomeno diciamo una parte del DNA che abbiamo dentro noi proviene da altri individui che provengono da altre parti che ovviamente non so dire perché non ne sono a conoscenza ma di certo noi siamo il prodotto di un intervento di ingegneria genetica Quindi allora già gli antichi conoscevano la colonnazione? Sicuramente, gli antichi intesi come gli appartenenti a quella civiltà ovviamente perché la civiltà di quei signori lì chiamati nella Bibbia Elohim o chiamati Deva o chiamati Teoi dai Greci eccetera mentre l'uomo ovviamente è un prodotto di quella civiltà quindi non era l'uomo che conosceva quel tipo di tecnica ma erano questi qui che la conoscevano Quindi insomma esiste l'extraterrestre? È molto probabile io ovviamente non ho prove però direi che leggendo i testi degli antichi se faccio finta che siano veri dovrei dire di sì Il prossimo Stargate lo troviamo dove allora? Non lo so, appena lo trovo vi avverto Grazie